Train alle orate. Si può fare anche la train alle orate. Non lo sapevo. No, scherzo. Sono qui con Fabrizio, ormai mi segue sempre e tra l'altro questa diventerà probabilmente una consuetudine perché ormai ci ha preso gusto e adesso chi lo molla più. Ciao Fabrizio, ben arrivato. Ciao a te, buongiorno a tutti. Lo sai che oggi dobbiamo fare la train alle orate, che ce l'hanno chiesta il nostro amico Love House, che dopo pensate che non leggiamo i vostri commenti, invece li leggiamo con attenzione. C'è stato questo commento che ci ha chiesto, ma voi fate una cosa un po' diversa perché io invece le orate le vado a pescare a train. Ho parlato con Fabrizio e ho detto, che dici, facciamo? Ma secondo me potrebbe essere una cosa interessante. Dopo l'abbiamo un po' sviluppata ed effettivamente sono usciti tanti argomenti. Tanti tipi diversi di montatura, quindi assolutamente una cosa da vedere, se non altro per questo, e delle tecniche un po' birichine, un po' furbe, fatte posta proprio per l'orata. Anche se questa tecnica non si può dire che sia solo ed esclusivamente l'orata. Può succedere che abbocchi anche qualche tropesce, ma a noi non ci fa mica schifo, giusto? Decisamente no. Dai Fabrizio, facci sognare. Io ti metto subito questa scheda, così hai lo spunto giusto e iniziamo con la train classica. Ma io direi addirittura di iniziare prima con una piccola prefazione. Vuoi dire due cose sulla train all'orata in senso generale? Allora, diciamo che nelle tante uscite di traina normale, quindi a tanti altri pesci, ci è capitato ogni tanto di prendere delle bellissime, molto grosse orate. E inizialmente, ovviamente per noi era strano perché non eravamo abituati, cioè noi andavamo comunque a prendere altri pesci e nella nostra testa l'orata non è mai stata un predatore, quindi al nostro calamaro, alla nostra seppia viva, tecnicamente lei non ci doveva pendere. Però nel tempo queste catture sono diventate sempre meno sporadiche e quindi abbiamo iniziato a capire che si poteva andare a pescare anche un pesce che non è tipicamente un predatore. Io poi facendo i miei ragionamenti ho notato anche guardando le vecchie foto che spesso e volentieri le grosse orate erano comunque prese, perlomeno nella mia zona, sempre in periodi tra ottobre, novembre e dicembre. Quindi ritorniamo sempre al discorso che in questo periodo le orate si ammassano per riprodursi in 30, 40, 50 metri d'acqua e quindi secondo me diventano, innanzitutto si ammassano in alcuni punti, quindi passandoci è più facile trovarle, ma soprattutto diventano molto territoriali proprio per il fatto dell'accoppiamento e quindi non è strano che mangiano le nostre esche. Io ho un'esperienza un po' diversa in realtà. Io ho pescato diverse orate facendo la train al dentice, luglio, agosto, settembre, ma soprattutto sotto costa e in acqua molto bassa. Parliamo di anche 10 metri d'acqua. A me succede spesso in alcune zone dove vado a pescare in Croazia di fare delle prove e andare a trainare anche in acqua molto bassa. In certe situazioni ho visto che può pagare un po' di più rispetto che trainare sempre sui 20, 30, 40 metri o anche più. Dipende un po' anche dalla posizione del pesce foraggio fondamentalmente. E in quelle situazioni è successo che ha abboccato anche l'orata e anche in questo caso parliamo di orate abbastanza grosse. Probabilmente l'orata, quella proprio piccola, può essere intesa come pesce disturbatore. Forse anche qualche volta ci dà, però a rovinare l'esca non riesce a essere la matta. Però le orate grosse invece ho tanti esempi da portare dove hanno abboccato tranquillamente. Soprattutto sull'esca morta comunque, non sull'esca viva. Quello che dici tu è verissimo. L'orata, l'abbiamo detto anche nel video precedente sulla pescale orate, in periodi estivi e quindi con mare caldo, l'orata ama vivere in basso, anzi bassissimo fondo. E quindi per quello che è più facile facendo la traina in basso fondo, l'estate prendere delle orate. Mentre invece nel periodo autunnale l'orata tende a spostarsi dal poco fondo e va ad ammassarsi in posti con, ripeto, 40, 50, 60 metri di fondo. In qualche caso anche 80-90 metri. E lì allora che noi magari le abbiamo incrociate inizialmente casualmente, trainando sui dentici, trainando sulle ricciole. Poi man mano che le abbiamo prese abbiamo iniziato a ragionare un po' di più come si potesse affrontare una pescata a traina sulle orate. Ovviamente è una pesca molto selettiva. Quando noi andiamo a traina, solitamente andiamo a dentici, andiamo a cerni, andiamo a ricciola, quindi abbiamo una moltitudine di pesci. Quello che arriva, diciamo, ci accontentiamo. Quando andiamo invece a trainare sulle orate, determinate situazioni con determinati trucchetti, solitamente mangia l'orata. Poi è anche vero che anche alle nostre esche potrebbe tranquillamente mangiare un parago, che in certe situazioni sono ammassate insieme alle orate, perché il parago è pagro o è orate, più o meno sono dei pesci molto simili. Diciamo che il pagro, secondo me, dal punto di vista proprio naturale, è un'orata leggermente più aggressiva. Diciamo che il parago è un predatore, però se voi guardate la dentatura, ha la dentatura molto simile all'orata, quindi ha sia i denti canini davanti, ma ha tutte le placche dietro, cos'è che magari non c'è al dentice. Quindi il pagro è molto più vicino all'orata rispetto al dentice, anche se poi noi, molti lo confondono col dentice stesso. Però, secondo me, è più vicino alle orate, più fratello delle orate che non del dentice. Quindi è capitato, sia nella traina, ma anche in pesche verticali, di trovare dei montoni di grossi pagri e di grosse orate tutte insieme. Iniziamo a parlare un pochettino della traina. Adesso qui, vedete, c'è un finale di traina classico, quindi abbiamo un preterminale di circa 8-10 metri in fluorocarbon, un piombo guardiano che va dai 250 ai 450 grammi, la classica girella e un finale. Come dicevamo prima, noi le orate le possiamo tranquillamente prendere anche con una trana classica. Abbiamo però scoperto nel tempo che ci sono dei piccoli trucchetti che possiamo utilizzare per alzare la percentuale della mangiata delle orate. La prima, in assoluto, è l'esca. Noi normalmente, per andare a traina normale, utilizziamo o calamaro o sepia vivo. Da lì non si scappa. Oppure dei pesci vivi. Sui pesci che la orata ci vada a mangiare da vivo è molto, molto, molto difficile. Però sulla sepia e calamaro è capitato tantissime volte di prenderla. Primo trucco, questa è una cosa contro la natura del pescatore, abbiamo notato anche vedendo tanti video che la orata preferisce l'esca morta all'esca viva. Se lei vede un calamaro o una sepia viva, li segue, gli sta vicino, però la orata non essendo un predatore non va dritto ad attaccarla e a ucciderla, però gli sta dietro e spesso e volentieri aspetta che la nostra esca venga uccisa magari dalle tanute o da qualche pesce più piccolo. E lei sta sempre nelle retrovie e aspetta. Quando l'esca è bella morta e striscia sul fondo, allora lei piano piano si avvicina e va a dargli dei morsi. Quindi cosa facciamo? Noi invece di aspettare tutto questo tempo tendiamo a dargli già l'esca morta, quindi spesso e volentieri uccidiamo sia il calamaro che la sepia. Oppure utilizziamo anche un calamaro o una sepia congelata, cioè scongelata ovviamente. Ok, la variante è molto più semplice perché puoi portarti tranquillamente delle sepia o dei calamari congelati e non hai proprio bisogno neanche della vasca del vivo. L'unica cosa che bisogna adesso raccontare è ancora un paio di cose che secondo me sono fondamentali. L'esca morta, anche se potrebbe sembrare più facile pescare con l'esca morta, in realtà è molto più difficile perché se non viene innescata esattamente come deve essere innescata, lei comincerà a girare nell'acqua. E se noi siamo in una situazione in cui l'esca gira, a parte che ci potrebbe creare anche parucche, problemi sulle linee della montatura e il filo della canna, ma semplicemente il pesce non ci dà perché è un movimento assolutamente innaturale per questo tipo di esca, diciamo, girare. Quindi l'innesco deve essere fatto veramente con tutti i crismi, bisogna utilizzare ami dritti, bisogna stare attenti, bisogna posizionare l'esca in acqua e stare attenti che trainandola questa mantenga un ottimo assetto. Mi vengono in mente anche quei piombi con i chiodi sotto che si chiamano esca viva. Non so se sei presente Fabrizio. Sì. Tu ce li hai forse in negozio? No, non li ho, però... Perché so che esistono dei piombi, allora quelli hanno dei vantaggi, però anche degli svantaggi, perché quel tipo di piombo tende a far cadere chiaramente l'esca. Noi considerate che la traina con l'esca morta di solito la facciamo ancora più lenta rispetto alla traina con l'esca viva. Quindi se normalmente andiamo a un nodo, con l'esca morta dobbiamo andare a 0,5, 0,4, 0,6. Io direi di non andare a... Stiamo dando tutti i trucchi troppo velocemente. Buono, insomma, adesso facciamo un recap e dopo, casomai, andiamo nello specifico in tutte le varie cose, però se no sembra tutto molto troppo simile alla traina con il vivo. Invece la traina allorata ha diverse difficoltà e differenze rispetto alla traina al dentice. No, allora, ritorniamo sempre alla nostra esca. Quindi abbiamo parlato di seppia e calamaro, che sono le due esche principe per la traina. Se parliamo di una traina classica, io sicuramente preferisco il calamaro o la seppia. Sicuramente ne esca più rapida, il pesce lo mangia molto più velocemente. Mentre se parliamo di pesca allorata, allora le cose qui si ribaltano, perché sicuramente la seppia sta molto più nel menù dell'orata rispetto al calamaro. Anche perché la seppia tende a vivere più sul fondo, si muove molto più lentamente, quindi secondo me l'orata riesce a mangiarla più facilmente. A differenza invece di un calamaro, che tende a stare spesso a mezz'acqua, ed è un animale che in acqua è molto più veloce dell'orata, della seppia. Quindi il calamaro, secondo me, non è nel menù dell'orata classica, però se lo trova non lo disegna. Mentre la seppia, secondo me, è proprio uno dei classici menù dell'orata, quindi è molto più facile pescare un pesce con l'esca che è abituata a mangiare rispetto a una che è abituata un po' meno. Anche perché le seppie tendono a stare più sul fondo rispetto ai calamari, cioè i calamari comunque normalmente viaggiano anche un metro, un metro e mezzo, due metri. Invece le seppie molto spesso stanno proprio sul fondo, posto dove sta normalmente anche l'orata. E poi durante quasi tutto il periodo dell'anno la seppia comunque vive tranquillamente tra i 0 ai 5-10 metri, mentre il calamaro a quelle profondità, a parte la notte, non lo trovi mai. Quindi diciamo che per l'orata è molto più semplice andare a cercare una seppia che non un calamaro e quindi viene tutto più semplice. E quindi abbiamo notato nel tempo che se dobbiamo scegliere un'esca sull'orata va benissimo la seppia. Altro piccolo particolare della seppia è che quando viene mangiata dal pesce disturbatore oppure dalle stesse orate molto più piccole, la seppia essendo più dura, ti rimane molto di più nell'esca. E quindi tu riesci ad avere molte più possibilità di ferrati. Ti rimane molto. Precisamente. Mentre un calamaro dopo un paio di morsi solitamente te lo scippano, te lo portano via. Quindi la seppia è più catturante per l'orata e soprattutto ti rimane molto più attaccato all'apparato pescante. Quindi già un vantaggio, due vantaggi abbiamo sulla seppia. A me stanno venendo in mente tantissime domande da farti, però a questo punto voglio lasciarti continuare in modo da fartele tutte quando hai finito e siamo sicuri che magari non mi rispondi già andando avanti. Ok. In questo caso, sempre rivedendo il disegno, abbiamo fatto una classica montatura con un Amo, con un 5180 ferrante, mentre dietro abbiamo messo sempre un Honor 5111, però mobile. Ok? Poi dopo andremo a vedere che questa è una classica apparatura, ma sull'orata possiamo fare tantissime varianti. Soprattutto alla fine le andremo a vedere con tutti e due gli Ami fissi, più che con un Amo fisso e un Amo scorrevole. Questo perché se noi dovessimo prendere in bocca un'orata, l'orata è molto dura, con un Amo scorrevole, se non gli dai una bella ferrata rischi di non ferrarla mai, mentre invece con i due Ami fissi riesci sicuramente a dare una ferrata più significativa. Ma spiegami un attimo la tua azione di pesca, la velocità a cui vai per esempio? Mi confermi che sono... Allora, partendo dal presupposto che se una traina normale deve stare entro il nodo e mezzo, perché dopo il nodo e mezzo inizia a girare qualsiasi esca, soprattutto anche l'esca viva riesce a girare, solo qualche pesce riesce a stare sopra il nodo e mezzo, però se noi mettiamo una seppia in calamaro dopo il nodo e mezzo inizia a girare. In questo caso, se noi abbiamo l'esca morta, dobbiamo stare addirittura sotto il nodo, 06, 08, perché altrimenti invece di avere un'esca noi avremo un frullatore. E attenzione, se posso aggiungere un'altra cosa, attenzione che noi stiamo parlando della velocità dell'esca nell'acqua. Dovete un po' anche imparare, quando leggete la velocità sullo strumento, capire se è effettivamente la velocità reale della barca rispetto all'acqua o è una velocità fittizia che riguarda il suolo, cioè il ground, perché di solito i GPS, anzi sempre, ti danno la velocità rispetto al suolo, che è fermo. Se l'acqua ha già una corrente di mezzo nodo e noi andiamo nella direzione della corrente, allora in quel caso la nostra velocità risulterà molto inferiore al nodo, risulterà 0,5. Se invece andiamo contro corrente diventerà un nodo e mezzo. Quindi bisogna stare molto attenti a questa cosa, capire se c'è corrente, la direzione della corrente e regolare la velocità del motore in funzione della velocità della corrente, non solo della velocità della barca. Stando tra l'altro anche attenti che la corrente sotto può essere diversa rispetto alla corrente superficiale. Quindi per vedere questo, ovviamente il primo strumento che noi abbiamo è il GPS, quindi voi dovrete stare attenti e perlomeno cercare di stare comunque entro il nodo nel vostro GPS. Poi per capire se la corrente è troppo poca o è forte, quindi l'unica cosa che veramente potete guardare è l'angolo che fa il vostro filo entrando in acqua. Io ritorno a dire che l'angolo più o meno giusto è un 45 gradi. Poi se l'angolo tende ad aprirsi, diventa un angolo acuto, vuol dire che noi siamo comunque troppo veloci e la nostra esca sta salendo. Quindi anche se il vostro GPS dà 1,08, vuol dire che purtroppo sotto c'è una corrente talmente forte che voi dovrete comunque rallentare. Se invece il filo tende ad aprire l'angolo, vuol dire che se avrete praticamente il vostro filo sotto la barca, vuol dire che lì corrente proprio non ce n'è. Nel caso dell'orata, con corrente quasi inesistente o con poca corrente, comunque possiamo avere dei risultati. L'unico problema è se è troppo veloce. Allora a quel punto l'esca si alza e difficilmente noi andremo a prendere delle orate. Questo nello specifico ovviamente. A differenza magari di un dentice, di qualche altro pesce, delle ricciole che tendono a salire anche 7, 8, 10, 20 metri. L'orata traina, veramente se voi non gli mettete l'esca sul fondo e la fate muovere piano, almeno di un miracolo, difficilmente prenderete orate. Quindi già vedete che la pesca all'orata è un po' più specifica, quindi dovrete sicuramente stare molto più attenti alla velocità rispetto a un altro tipo di traina. Secondo me si riesce anche un po' a riconoscere l'orata come mark sull'ecoscandaglio rispetto al dentice, perché secondo me l'orata si muove addirittura un po' meno rispetto al dentice, quindi non ti fa dei mark molto chiusi, stretti, come potrebbe essere un mark di dentice, ma mark più lunghi e molto vicini al fondo. Chiaramente non si può metterci il nome quando si vede un mark così, perché potrebbe essere anche un dentice che sta vicino al fondo, magari si cerca di nascondere vicino a un costone, una roccia, però generalmente ho visto che le orate tendono a stare veramente molto basse, mentre i dentici possono navigare tranquillamente anche a 2, 4, 6 metri di altezza rispetto al fondo. Diciamo che andare a sperare di scoprire se il mark di un orata, un pagro o di un dentice è veramente di un altro pianeta. Tu potresti riuscirci. No, non ci riesco neanche io, però effettivamente qualche differenza la riesci a notare. Tu noti la differenza non tanto perché c'è un pesce diverso, ma noti la differenza perché ha un comportamento che è diverso. Io ormai i mark li riconosco tra le ricciole identici e anche per esempio l'orata, lo riconosco molto proprio dal comportamento del pesce, non dalle dimensioni del mark. Tante volte mi chiedete infatti un mark più grosso, più sottile, più lungo, più stretto. Quando si vedono i pesci, si capisce molto del comportamento che hanno da quello che si vede sull'ecoscandaglio. Per esempio, ci sono situazioni in cui i pesci se li vedono completamente statici, che fanno delle linee molto lunghe, molto regolari, non ci sono movimenti. Quelli sono pesci che stanno navigando e sono tranquilli e non sono assolutamente interessati alle mangianze, all'attività. Quando invece vediamo delle linee che salgono velocemente o che scendono velocemente, o molto strette, acute, sempre stesso tipo di spessore, quelli sono pesci che sono in attività, che stanno cacciando. Quindi è una situazione completamente diversa nella pesca. Se noi stiamo passando sopra dei dentici che sono assolutamente tranquilli, è difficile riuscire a farli mangiare. Dopo lì bisogna tornare indietro, magari lasciar passare due ore, tre ore, non immediatamente, e ripassare sulla zona e magari potrebbe essere anche cambiato qualcosa. Poi, secondo me, i pesci, questo tipo di pesce, sentono molto il tempo, sentono molto le maree, le correnti, il tempo che sta per arrivare, il tempo che è già passato. Ci sono delle situazioni in cui il mare è completamente fermo, non c'è nessun tipo di attività e anche il pesce risulta assolutamente apatico sulle nostre esche. In altri momenti, invece, quando c'è un po' di vento, c'è qualche onda, il tempo sta cambiando, la pressione sta calando velocemente, allora in quelle situazioni il pesce, secondo me, di solito è abbastanza più attivo. Allora, secondo me, sul discorso traina, allorata, vera e propria, queste sono fondamentalmente i punti chiave, quindi abbiamo detto l'esca morta, ma soprattutto la velocità. Le dimensioni dell'esca per te, Fabrizio, quali sono? L'esca che preferisci, come seppia, per esempio? Allora, io sono, se vado a traina, sono convinto che seppie e calamaro devono essere vistose, perché il problema che io ho riscontrato, l'ho riscontrato, soprattutto, per esempio, con le tanute. Allora, se tu metti un calamaro in acqua, appena lui arriva sul fondo, la tanuta lo attacca, subito. Sembra che ci sia l'elettricità sul fondo. Poi cosa fai? capisci che ci sono solo tanute, quindi ritiri sul tuo calamaro completamente distrutto, gli tagli due striscette, gli metti due striscette, le ributi in acqua, convinto di prendere subito le tanute, perché sono fameliche, le due striscette non le mangiano molte volte. Perché? Perché loro non sono interessate da queste strisce, loro sono interessate dall'esca importante. E questo, anche nell'orata, l'ho visto da tanti video, che più è voluminosa l'esca, più lei viene attratta. Molte volte non la attacca, non la mangia, però la segue e viene comunque incuriosita. Quindi, sarei dell'idea, tranquillamente, di mettere anche delle sete e dei calamari, anche abbastanza grandi. Poi dopo vediamo che ci sono dei finali con delle trappoline con cui noi possiamo poi fregare il pesce, perché capita molte volte che tu senti la mangiata dell'orata, che è una mangiata secca. e dici, non capisci cosa sia, sembra che sia una tanuta importante, un paraghetto, eccetera, eccetera, magari è lei l'orata. Semplicemente lei morde la seppia e ti lascia proprio i segni dei denti. Magari, semplicemente, non riusciamo a ferrarla perché gli ami sono troppo grandi, quindi andremo dopo a vedere dei piccoli trucchettini per riuscire a fregare anche magari dei pesci che possono essere da mezzo chilo, ottocento, un chilo, magari non sempre pesci da 4-5 chili che a quel punto ingoiano e non è, non, sull'amo non ci vanno, non è un gran problema. Ok. Però questi li vediamo, li vediamo dopo. Li vediamo dopo. Sì. Ecco, questa inizia a essere un terminale che seppur simile a quello di prima è il modo con cui io veramente vado a fare, vado a fare le orate. Anche qua, se voi vedete il piombo è attaccato a un anti-tangle, per chi non sapesse cos'è l'anti-tangle, l'anti-tangle, vediamo se lo si vede, è questo, è un tubetto in cui il filo può passare, eccolo qua, il filo è scorrevole e serve per dare rigidità alla parte finale, quindi per evitare che il filo si annudi. Ok. Questo tipo di trave qua lo vado a fare proprio per l'orata, proprio per la bassa velocità che io devo andare a utilizzare. Anche qua, vedete, abbiamo un... Ovviamente io qui ho messo delle cose, degli ami grandi, semplicemente per farveli vedere meglio, ma ovviamente gli ami che andremo a utilizzare, saranno sicuramente molto più piccoli, ma possiamo tornare al disegno principale. Ecco qui. Allora, anche qua noi utilizziamo un pre-terminale, come vedete, di fluorocarbon di 5-6 metri, solitamente tra il 40 e il 60, sempre perché ci interessa avere un po' di rigidità per evitare che il filo ci sia a torcigli. Mettiamo un piombo da circa 100 grammi, se c'è corrente anche un po' di più. Questo peso così basso è proprio perché noi andremo a fare una pescata praticamente come leggete a scarroccio, quindi utilizzeremo, dopo faremo vedere anche le canne che utilizzeremo, però fondamentalmente il nostro piombo quasi striscerà sul fondo o al massimo saltellerà per dare la possibilità proprio all'esca di essere appoggiata al fondo molto molto lenta. Poi andremo a mettere ovviamente una piccola perlina morbida perché l'antitangolo essendo scorrevole spesso e volentieri va a picchiare sul nodo della girella. Picchia oggi picchia domani potrebbe rovinare quindi noi andiamo traverne a non vedere a mettere una piccola perlina fluorescente. Andiamo a mettere una girella poi vi faccio vedere in questo caso in questo caso è una sesame del 4 oppure possiamo mettere anche tranquillamente una TB 120 di Tubertini che è una girella classica da Traina molto bella che non si rovina mai e poi andiamo a preparare proprio il nostro finale il nostro finale sempre rigorosamente in fluorocarbon di una lunghezza di circa un metro un metro e mezzo però lì potete fare un po' come volete potete farlo anche più corto anche più lungo io ho trovato la mia dimensione con il massimo 150 centimetri diciamo che vedete la prima grande differenza che noto tra questo tipo di montatura e la montatura che abbiamo visto prima è proprio la differenza di lunghezza del nostro terminale perché prima parlavamo di 6-8 metri di fluorocarbon adesso invece parliamo tra il piombo intendo e l'esca adesso parliamo di un metro un metro e mezzo quindi abbiamo ridotto tantissimo sì decisamente è una pesca molto più se la vogliamo molto più simile al bolentino noi la chiamiamo la traina allorata ma fondamentalmente potrebbe essere anche un bolentino pesante allorata dipende dai punti di vista ognuno la la vede un po' come vuole io siccome per me il bolentino è ancorato per me questa è traina ogni volta che io vado o a motore o a scaroccio per me diventa in automatico traina e quindi non l'annovro tra le pesche e volentino scaroccio però vedete non abbiamo detto prima ma sicuramente un sistema molto interessante è quello di utilizzare il motore elettrico di prua per tenere diciamo una rotta e una zona dove vogliamo andare a battere senza essere proprio in balia della corrente o del vento è anche una velocità costante perché una volta che tu imposti nel tuo motore di prua la velocità lei tiene con la velocità e ovviamente parliamo di velocità veramente bassissime perché anche qua il piombo deve quasi strisciare per terra perché l'orata oltretutto è molto incuriosita anche dai rumori il piombo che sbatte sul fondo il piombo che alza un po' di sabbia il piombo che sbatte sulle pietre l'orata questo ve lo dico da ex pescatore subacqueo è attratta da tutti questi rumori che possono assomigliare a qualsiasi cosa che lei mangia quindi il piombo che sbatte sulla pietra può assomigliare a qualche altro pesce qualche altra orata stessa che rompe con i denti magari un boccone che rompe con i denti una cozza tutti questi rumori secchi all'orata fanno fanno venire la voglia di andare a guardare la telecamera stessa se voi guardate svariati video vedrete ogni tanto l'orata che segue l'esca supera l'esca e poi va a dare un morso alla telecamera questo probabilmente è per il rumore che la telecamera va a fare voi guardate alcuni video vedrete proprio l'orata come anche la tanuta spesso e volentieri superano l'esca e mordono la telecamera quindi evidentemente anche i rumori fanno la differenza e in questo caso il piombo che striscia per terra su un fondo magari di misto sabbia fango e qualche pietra può attirare sicuramente le nostre orate sì attenzione a non fare questo tipo di traina dove ci scela anche la posidonia perché facciamo disastri si tende a perdere molto facilmente tutto stando così vicini quindi visto che siamo proprio parlando dell'esca e del sistema traina come tieni tu la canna la frizione soprattutto mi interessa partiamo da un presupposto allora la pesca il calamento che vi ho fatto vedere prima era un classico calamento da traina quindi io in quel caso uso proprio una canna da traina può essere una 6 libre una 10-12 libre e in questo caso io tengo la frizione abbastanza chiusa proprio in stile traina partiamo dal presupposto importante che io quando traino ho sempre la canna in mano quindi qualsiasi morso qualsiasi botta qualsiasi morso di orata secco dovrei riuscire a capirla quindi da lì poi mi muovo di conseguenza però in quel caso lì la frizione è abbastanza chiusa ma quindi tu accompagni la mangiata cioè senti il colpo cosa fai appoggi il piombo sul fondo gli lasci filo aspetti ancora come funziona da lì decisamente poi ogni situazione cambia inizialmente tieni la canna comunque l'esca sin quando lei continua a mangiare cerchi di tenere l'assetto che avevi prima poi se ti accorgi che lei non mangia bene allora a quel punto puoi aprire appoggiare appoggiare il piombo sul fondo e farla proprio mangiare sì perché uno dei vantaggi delle anti-tangle è quello proprio che se lei prende l'esca e tu hai appoggiato il piombo sul fondo e hai aperto la frizione del mulinello o nel caso l'archetto diventa scorrevole e diventa un piombo scorrevole lei lo prende però l'anti-tangle Davide aspetta però l'anti-tangle io non lo uso con la canna da traina ho fatto un passo indietro quindi sono nel calamento precedente quindi sto spiegando come funziona in questo caso invece hai detto bene l'anti-tangle praticamente il nostro terminale diventa scorrevole questo terminale qua però io non lo utilizzo con cane da traina lo utilizzo con cane da volentino ok per quello vi dicevo che per molti tende a essere un volentino io utilizzo delle cane da volentino e questo mi costringe tra virgolette e mi permette di tenere la frizione più aperta anche perché se voi andate a notare anche i finali sono diversi prima abbiamo messo un finale del 40-50 fino al 62 qui abbiamo messo dei finali anche del 35 questo cosa comporta che la rata mangerà molto meglio però se parte un pesce da 4-5 kg e tu hai la frizione chiusa con un 0-35 la rata potrebbe spaccartelo in partenza quindi in questo caso che per me è la pesca a scarroccio io qua tendo a utilizzare una frizione molto più aperta e anche per giocare col fatto che l'antitangle essendo uno scorrevole la rata non si accorge del piombo e quindi mangia molto più tranquillamente io su questa tecnica qua che non ho fatto spessissimo però qualche volta l'ho fatta ho trovato molto utile mettere un ferretto non so se tu hai mai visto questo sistema un ferretto sul fusto della canna di filo di rame morbido apri l'archetto del mulinello passi il filo su questo gancetto fatto di filo di rame quando il pesce dà la prima mangiata buona questo file di rame si apre e il filo diventa libero tu ti accorgi immediatamente lasci quei 6 7 10 secondi anche per dare il tempo al pesce a prendere l'esta a masticarla a inghiottire dopodiché chiudi l'archetto e ferri io ho visto che con questa tecnica paga molto anche in considerazione che sei comunque con la barca che va molto piano quindi in realtà anche se aspetti 5-6 secondi e il pesce che ti porta via l'esca per un metro un metro e mezzo due metri non sei neanche tu tanto che lo fai la strada questa questa variante che dici tu ci sta soprattutto quando hai più canne in pesca magari c'hai 1-2-3-4 canne in pesca perché questa pesca si può fare anche così nel momento in cui ti stai scarrociando puoi mettere svariate canne quindi non potendole gestire tutte insieme puoi mettere questi avvisatori di mangiata che poi ce ne esistono mille no ma questo più che un avvisatore non è proprio un avvisatore questo serve per tenere in trazione il filo quindi diciamo il filo non è completamente aperto ma nel momento in cui tu hai una mangiata si raddrizza il filo di rame e la frizione è completamente aperta perché hai l'archetto aperto del mulinello quindi il filo esce con una facilità incredibile il pesce non si accorge che l'esca è collegata a un sistema pescante che hai in barca prende l'esca e la porta via non fa nessun tipo di sforzo per questo serve non è un avvisatore a boccata che ti dà qualche rumore qualche suono che fa fare qualche no 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 è proprio una cosa evisiva cioè ti dà ti dà la possibilità di andare in un secondo momento e di poter ferrare esatto io sono io sono un purista della pesca nel senso che travolentino traina sempre attrezzature in mano quindi per me il divertimento è proprio avere la canna in mano e sentire tutte queste cose si si tu le accompagni proprio si da da bolentinista a incallito quale sono io tendo sempre a tararmi la frizione al punto giusto quindi in questo caso dello scarrocio io tendo a tenere la frizione molto aperta perché innanzitutto non so mai quanto grosso è il pesce che sta mangiando quello lo scopri solo dopo le prime fughe e quindi cosa succede che tengo la frizione molto aperta quando lo sento mangiare blocco la frizione con la mano quindi tengo la frizione bloccata con la mano lo faccio mangiare se ho bisogno di dargli filo tolgo la mano e lo faccio camminare se invece lei sta mangiando bene la tengo ferma ferro do la ferrata a mano cioè con la frizione completamente chiusa per ferrare perché la frizione è dura in bocca è questo il problema rischia di prendere una placca ok quindi ferro forte e poi a quel punto tolgo semplicemente la mano della frizione se la orata è piccola media io più o meno la frizione l'ho già tarata per quelle se la orata invece è grossa riesce tranquillamente a prendersi anche 5, 6, 8 10 metri di filo ma non è un nostro problema perché tanto la orata non è un pesce che a quelle profondità tende a strisciare sul fondo tende a intanarsi è un pesce che parte tu lo fai andare e poi piano piano te la recuperi quindi non è un problema farle partire anzi diciamo che è parte del divertimento andiamo a vedere anche lo scarroccio con l'antitangle invece con il col piombo allungato sì questo è molto simile al precedente noi utilizziamo il piombo allungato semplicemente per staccare leggermente il nostro apparato pescante dal fondo perché magari in questo caso nel il caso prima è perfetto quando il fondo è molto sabbioso un po' di alghezza misto sabbia qualche pietra allora farlo strisciare è perfetto se invece il fondo è molto roccioso o c'è qualche alga in più oppure ci sono spesso dislivelli diciamo con la precedente rischi di arroccare troppo spesso oppure di sporcare l'esca normalmente i pesci con l'esca sporca di alghe tendono a non mangiare invece in questo caso qui è un trave un po' più vicino alla traina e quindi ti permette magari di tenere l'esca staccata di 10 20 30 40 centimetri dal fondo e tenere sempre l'esca pulita e di arroccarla un po' meno quindi diciamo è una variante simile che però ti permette di essere utilizzata in un fondo un po' più scosceso dove ci sono più pietre ma in questo periodo parlo di novembre dicembre tu hai esperienze nell'uso del polpo come esca polpi piccoli tendo a dire moscardini piccoli o polpo di roccia proprio quelli piccolini non li hai mai usati? allora io sono convinto che il polpo è sicuramente un'esca che è nel menù delle orate su questo non ci piove ok però in queste pesche è un'esca molto lenta non è una pesca secondo me il polpo in generale non è un'esca da utilizzare in traina poi abbiamo preso dei denti abbiamo preso i pesci però è sempre un'esca lenta quindi preferisco sempre la seppia e il calamaro su invece i polpetti piccoli moscardini ci può stare soprattutto se vai a mettere magari un amossolo metti un piccolo moscardino e a quel punto risolvi anche il problema delle orate più piccole perché normalmente quei polpetti la rollo se li mangiano in un morso due morsi però diciamo che se devo scegliere io difficilmente vado su queste su queste esche diciamo che hai la possibilità di scegliere forse anche io potrei probabilmente scegliere la seppia però il polpo secondo me paga molto bene nelle tecniche verticali cioè se stai pescando in verticale e fai un bel innesco con un polpo con il piombo dentro quella tecnica king cab mi sembra come si chiama quelle lì quelle quel movimento che riesci a dare all'esca secondo me è molto catturante quello potrebbe essere anche un qualcosa di interessante soprattutto perché come hai detto te io sono convinto che l'orata caccia normalmente i polpi sono più o meno nello stesso habitat tra l'altro l'habitat ideale per l'orata sono le distese di ghiaione misto conchiglie dove si possono trovare granchietti qualche conchiglia appunto dove ci sono questi tipi di di biodiversità parlo proprio di cose utili per l'orata per mangiare eccetera sono queste le zone più interessanti assolutamente che è l'habitat del polpo poi infatti è lo stesso habitat per questo intendo forse anche come esca potrebbe essere intelligente sempre se dimensioni relativamente piccole perché un polpo da mezzo chilo non penso che sia utile per l'orata quello lo usiamo per altri scopi però il polpo non essendo un animale molto veloce quindi normalmente lo trovi fermo l'orata sicuramente ogni tanto qualche piccolo morso sui tentacoli glielo dà e oltretutto sicuramente il polpo è un'esca sempre stata forse una delle esche principe per prendere l'orata è presente nel palamito quindi l'orata mangia tranquillamente il polpo però il palamito funziona con concetti completamente diversi quindi l'esca appoggiata sul fondo che deve durare l'orata poi con tutta tranquillità va cerca e da buona grufolatrice furtiva mangia volentieri il polpo però se il polpo già inizia a metterglielo in movimento non lo so ho notato che non la fa impazzire in modo particolare poi sono qui per essere smentito perché probabilmente centinaia di amici che ci stanno seguendo ora probabilmente avranno preso orate con i polpi però se io devo scegliere difficilmente vado con con i polpi grandi qualche volta ho utilizzato i moscardini però oggi come oggi sono anche difficili da reperire quindi è un'esca un po' un po' complessa direi un ni non la non la promuoverei a pieni a pieni voti ok adesso parliamo un po' dei tipi di montatura allora la prima è la classica montatura classica da traina come abbiamo già visto prima con un amo fisso e un amo scorrevole la numero 2 è la stessa semplicemente con entrambi gli ami fissi proprio per il per la problematica della dentatura dell'orata quindi molte volte io metto i due ami anche molto vicini fra di loro però fissi entrambi proprio per poter ferrare ed essere sicuro della della penetrazione dell'amo nella numero 3 come vedete ho messo due ami fissi con due braccioli diversi quindi un amo sta nel trave principale l'altro viene legato come braccioletto e quindi abbiamo due due ami ferranti e qua possiamo giocare possiamo mettere due esche possiamo mettere due piccole seppie possiamo mettere un pezzo di seppia attaccato agli stessi ami possiamo giocare in svariati modi dovete stare attenti perché a seconda di come voi andate a innescare come ha detto prima Davide l'esca potrebbe girare molto facilmente quindi dovete cercare di renderla più idromidinamica possibile quindi senza esagerare con le invenzioni nella variante 4 invece vediamo che io ho utilizzato un amo fisso con la girella sembra in quel caso sembra un amo da tonno però ovviamente lo utilizziamo di misure molto più piccole e andiamo a utilizzare vediamo se ce l'ho andiamo a utilizzare una girella di BKK vediamo se la riuscite a vedere questa girella ha due anelli uno piccolo e uno grande ok quindi l'anello piccolo noi lo andiamo inserire nell'amo e creiamo un amo con la girella poi invece in questo qua sotto che vedete qui ecco questo è un anello molto più grande in cui noi potremo anodare tranquillamente il nostro pre-terminale e da lì partono i due braccioletti che vedete nel disegno questa è proprio una girella che noi utilizziamo proprio per fare queste ammantature con gli ami fissi e ne potete mettere uno io in questo caso ne ho messo due questi sono quei trucchettini dove noi andiamo a inserire nell'amo principale un'esca voluminosa perché lei la deve vedere deve essere incuriosita poi negli ami piccoli possiamo andare a mettere proprio delle striscettine a parte oppure quei due ami andranno a essere inseriti magari nei tentacoli della sepia del calamaro in modo tale che è l'orata anche di taglia più piccola andando a morsicare dei pezzi del nostro calamaro rimanga lamata con gli amiti piccoli tra l'altro possiamo approfittare per dire ai nostri amici che c'è una bella novità perché faremo dei video abbiamo deciso io e Fabrizio proprio dedicati alle esche e agli inneschi quindi vi mostreremo proprio realmente l'esca in mano e come andiamo a lavorare sopra per fare gli inneschi ovviamente porteremo qualche esca cioè ci saranno il classico calamaro la seppia sicuramente la cozza la sarda se voi avete poi il piacere di vedere come si innesca anche qualche altro tipo di esca lo possiamo fare faremo dei video piccolini in cui mostriamo magari diverse tecniche di innesco il nodo catalina con l'esca viva mi viene ancora in mente la guglia ci sono veramente tantissime cose da vedere anche come si innesca in realtà la striscia di calamaro che è una cosa un po' interessante se uno non l'ha mai vista non l'ha mai fatto iscrivetevi al canale mettete le notifiche perché così sarete avvisati quando usciranno questi nuovi video dove vi mostreremo in pratica proprio come si fanno gli inneschi per avere il massimo risultato nella nostra sessione di pesca cosa dire ancora Davide è ora che inneschiamo i nostri terminali e andiamo a pesca inneschiamo i terminali e andiamo a pesca sì non posso dire niente altro vi vabbò anche questo video l'abbiamo fatto se avete voglia di guardare qui vi lasciamo un altro video interessante che sicuramente vi potrà piacere e ci vediamo alla prossima puntata che penso uscirà di nuovo il martedì abbiamo deciso io e Fabrizio di rendere una cosa diciamo più che termine posso usare Fabrizio? più sistematica? un appuntamento ecco l'appuntamento del martedì alle ore 18 sul canale dove troveremo le nostre due faccione e vi daremo qualche chicca qualche chicchetta in più su tante tecniche di pesca e tanti modi diversi su cui possiamo affrontare una battuta di pesca sempre con la simpatia e la bravura di Fabrizio che è qui apposta per supportarci grazie a tutti e al prossimo video ciao ciao